iniziamo subito su ched votiamo ched non qualsiasi ecco sono l'unico che vota ched prima che ci vogliono gli anni mi spadiglio perchè sono stanco perchè sono speriamo che ci fa mettere una buona lobby ok solar va bene ci vogliono i giocatori ed eccomi ci sono speso perchè non capisco il treno camicia lo sono scaricato completamente e ho cambiato vuole un po' aggiornarsi durante la partita online mamma mia i nabbi che parlano delle cuffie ok solar ched 4v4 si c'è qualcuno che mi conosce perchè sono italiano e niente siamo su qui la specie di antischiette diamo entro la resistenza alle esplosioni sarà una bella partita però il joystick mio ha degli scricchioli quindi dopo l'estate dovrò comprarne un altro mi dà un po' fastidio mi devo un po' abituare a questo questo scricchio lì mi è caduto malamente due volte quindi ci sta ci sta prendiamo il nostro ballo 26 e andiamo a giocare questa partita sulla carta dovrebbe essere equilibrata abbastanza equilibrata poi non si sa mai confida ai miei compagni di squadra qualcuno ecco c'era quello non ho visto niente c'è dell'u dell'u craft alle allucinazioni bravo c'è italiano 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 ahahah 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 cinese cinese du non capisco che significa cinese si possono rollare bene bene ok perdiamo va benissimo possiamo trollare eh vabbè sono forti ragazzi sono forti due sono platino zitto ooooh e cambio squadra ahahah cerca i distrucci siamo contro delle persone che disprezzano l'Italia ce l'hanno con l'Italia non se sono francesi o cosa mi sembravano francesi uno dall'accento peccato che voi non potete mi sembrano l'identite loro comunque stavano distracciando l'Italia eccetera Scusate che tu muori Stiamo arando in questo momento Bomba a terra, dobbiamo prenderla Ecco, si è rimasto solo, lo stiamo arando Fatto Ecco, non so che fare ragazzi Erano troppi, erano due Precicmark era uno, l'altro non lo potrebbe ammazzarlo Però ci sta, pure qui Potremmo fare una rimonta Where are you from? Ok, hanno ammazzato Non mi rispondono Uno, due Ho fatto molti tutti contro tutti prima Quindi mi devo un po' riabituare a Chad Devo essere un po' più calmo Con un po' più di tranquillità Devo cercare di ammazzare Quindi devo leggere un po' meglio Le partite C'è qualcuno subito col cecchino Piazza bomba, eccoci Bomba a terra Ho sentito in movimento il nostro compagno Lui ce n'ho, era questo Pensavo fosse il mio compagno Che era vicino Dai ragazzi, però quello che sta vicino a me Non può non vedere lui Io sto facendo due e tre Ma non può non vederlo, dai Sono pure tre ora loro Di cui due vivi Tre contro due Dobbiamo vincere Dobbiamo vincere Ok Abbiamo avuto due contro due a uno Buona rimonta Peccato per me che potevo ammazzare quello col pompa Ma Purtroppo è andata così Non possiamo farci più niente E niente Oggi sono un po' meno in forma Il cerdale che ho visto L'ho fatto ieri L'ho spena caricato sul mio canale YouTube Era un po' più di qualità Un po' più bello Però Comunque Volevo fare una mappa nuova Una mappa diversa E niente Avevo uscito sola E Toto Ibra Boh Saranno francesi Sì Come ho pensato prima Ce l'hanno a morte con l'Italia Va bene Chi sta C'era subito qualcuno qui L'ho visto prima Quindi aspetterei qui Qualcuno che rusha Eccoli Eccoli Sono passati da Da mid Da centro L'ho visto Cazzo Muori Quanti siamo Due contro uno Buona Due pari Stavano anche in positivo ora 3-3 Il secondo che ha fatto più kill della squadra Il secondo della partita in generale Appare in merito con swag Tag swag Sì Vi confermo che sono francesi Niente Andremo a fargli un bel 6-2 Almeno proveremo A portarci a casa Questi punti Visto che ieri ho quittato un po' Da qualche partita Sono rimasto a 35 punti Niente Lo sento subito qualcuno qui davanti Lo sento Ovviamente sono subito Qui a destra sono Vediamo se c'è qualcuno lì dentro C'è qualcuno E muore pure quello che c'è Prima sto ardito E poi ammazzato Sento qualcuno che si muove 3-2 Perfetto Il commentary Vi ricordo Come sempre Che è live Userò un commentary Diciamo non in live Per aver registrato dopo Magari quando dovrò Parlarvi di qualcosa in particolare Magari Non rispondere a delle domande Eccetera Oggi sono molto attivo Ma questo dovrebbe essere Il quinto video Se lo carico Il quarto Quinto video Che carico Per chi sarà un periodo Di inattività Estiva E quindi vorrei approfittarne Per caricare un po' Più di video Inoltre Le povericce Potrebbe arrivare anche Qualche altro video Però non ve lo garantisco Qui sempre Se c'è uno Che rusha su A Fatto assist Va bene L'importante Eccolo 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 Ce l'abbiamo Ammazzato Un assist E una kill Si conclude anche Molto bene Questo round Vediamo che hanno da dire I francesi Niente Azzittiti Li azzittiamo Perché stanno perdendo Quando vincono 2-0 Parlano Parlano Poi quando perdono 4-2 Stanno azzitti Io ho parlato Sia quando perdevo Sia ora che sto vincendo Quindi Va bene che siamo Uno in più Però Sono a livello più alto Si conoscono Eccetera No Pensavo fossi il mio amico Subito Ho rushato Dove ero io Peccato 5-4 Per me Mi Ho il radio Dalla partita Fino a ora Appari merito Con quest'altro Ce n'è uno qui sotto L'hai sentito Bravo No Va bene Ce n'è un'altra a destra Aspettalo Bravo DeluCraft Bravo In sostanza bravo Niente 3-V-1 No anzi 2-V-1 Portiamo a casa Questo round Vinciamolo Eccolo 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 Ammazzato Scompita Scompita Abbastanza Resante Anzi Senza Abbastanza La radio La radio migliore Della partita E mi trasformo In il terzo Radio migliore Che può essere Migliorato Solo se faccio Una tripo No una doppia Perché una Quintato Morto Vediamo di fare Questa doppia Capisco Dove ha sparato Il nostro amico Abbiamo piazzato Per la prima volta Nella partita Vediamo Dove è Sì L'abbiamo sentito Morto Va benissimo Così Si conclude Questa partita Con il risultato Di 6-4 Anzi 7-4 Questa doppia All'ultimo round Lasciate like Iscrivetevi Condividete questo video Su tutti i social Orviamo a